E prima di andare avanti con le notizie è arrivato il momento di collegarci con il nostro direttore Gianluca Fabi per fare il punto della situazione moderna. Direttore, buonasera. Eccoci qui, buonasera Aurora, buonasera ovviamente a tutte le nostre telespettatrici, telespettatori, radioascoltatrici e radioascoltatori. Direttore, che ne dice se parliamo dello scontro che è ancora vivo sia all'interno della maggioranza che dell'opposizione per quanto riguarda il MES? Anche perché proprio poco fa è arrivata la notizia che il Presidente della Camera, Roberto Fico, ha detto che l'Italia non lo userà mai come fece la Grecia. Questa, secondo lei, è un'apertura al MES da parte di Fico? No, ha detto il contrario, almeno se ho capito bene le tue parole. No, ha detto che non lo si utilizzerà nello stesso modo, però non mi sembra un no secco come quello di Patuanelli. Scusa, non l'avevo capito, non l'avevo capito. Quindi Fico dice che non lo si utilizzerà, non lo si utilizzerà to cure, non lo si utilizzerà nello stesso modo. Esatto. Sì, questa sarebbe già un'apertura, ovviamente, perché ricordiamo che Roberto Fico, oltre ad essere Presidente della Camera, è uno degli esponenti più importanti del Movimento 5 Stelle. Quindi, tra il dire non useremo mai il MES e il dire non lo useremo mai come l'ha usato la Grecia, ovviamente, significa dire due cose completamente diverse. Guarda, a questo punto la discussione non mi appassiona più, nel senso decidessero, l'Europa decidesse soprattutto, e facciamo presto perché ogni giorno mette in ginocchio l'economia, ogni giorno che passa mette in ginocchio l'economia italiana, le imprese, il mondo del commercio. Si sta facendo qualcosa con questi prestiti di garanzia erogati da regione e da governo, ma occorre un'iniezione di liquidità, come ormai hanno imparato anche i bambini a dire, rispetto a quella che è la situazione del nostro paese. C'è un fronte caratterizzato dall'Europa del Sud, dall'Italia, dalla Spagna e sembrerebbe esserci l'appoggio della Francia. Oggi Emmanuel Macron ha detto che ci potrebbe essere il crollo del progetto politico europeo, nel caso in cui l'Unione Europea non appoggi le economie, come quella italiana, più colpite dal coronavirus. Lo ha detto in un'intervista al Financial Times e ha escluso ogni scelta diversa dalla creazione di un fondo che possa emettere debito comune con una garanzia comune per finanziare gli Stati membri. Questa è una cosa ben diversa dal MES, perché il MES eroga delle risorse economiche, ma ovviamente poi tutto questo va in capo ai singoli Stati, quindi non c'è una condivisione di questo debito. Quello di cui parla Macron è una cosa ben diversa. Insomma, staremo a vedere, e io francamente poi immagino tutti gli italiani sono abbastanza stufi di parlare di queste cose, che sono anche cose difficili da comprendere, insomma, per la gente comune. Quindi vediamo finalmente tra qualche giorno che cosa si deciderà, però decidano in fretta. Direttore, che cosa ne pensa delle scuse che la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha fatto al nostro Paese oggi nel corso della plenaria al Parlamento Europeo? Questo è un atto sicuramente importante, perché ha detto che è la seconda volta che chiese scusa Ursula von der Leyen all'Italia. Evidentemente l'Italia ha la sua importanza per l'Europa, ma questo lo sappiamo tutti. Forse se ne deve convincere anche l'Italia stessa, che ovviamente ha una situazione debitoria difficile, ma questo non è il momento di parlare dei debiti pergressi, è il momento di parlare dell'emergenza sul presente. La von der Leyen ci chiede nuovamente scusa, poi aggiunge anche che però per chiedere scusa veramente all'Italia bisogna dar vita a dei comportamenti pratici. Io sono perfettamente d'accordo, un po' come nell'educazione dei bambini. I bambini magari tendono a fare i capricci o a comportarsi male e poi ti chiedono scusa. La prima volta sei contento, la seconda pure, poi però alla terza volta capisci che chiedere scusa è soltanto il modo per poi ricominciare magari a fare i capricci o a sbagliare. E allora a quel punto devi dire, va bene, le scuse vanno bene, ma comincia a comportarti concretamente in un certo modo e praticamente in un certo modo. Ecco, io credo che l'Europa debba fare questo. Mi è piaciuta questa metafora, direttore. Torniamo invece nel nostro paese per quanto riguarda la fase 2 e le riaperture. Abbiamo sentito poco fa il video di Zaia che dice che in Veneto si potrebbe ripartire anche prima del 4 maggio. i sindacati hanno espresso, credo, lecitamente la loro preoccupazione. La preoccupazione c'è e ci sarà sempre. Anche perché io non amo proprio i dati, come sai, del rito quotidiano della protezione civile, ma oggi ancora una volta abbiamo un dato che però tutti interpretano a modo loro. Quindi, figuriamoci, io ho un curriculum scolastico sulla matematica che è abbastanza vergognoso, quindi mi astengo da qualsiasi tipo di calcolo. L'aumento delle persone positive, attualmente positive, è di 1.189, ieri erano 1.127 per un totale di 106.000. Sono aumentati i tamponi, i casi, il totale dei test oggi tocca a quota 1.178.000. I casi totali di contagio dall'inizio del monitoraggio dell'epidemia sono ora 168.900, con un incremento di 3.786 in un giorno. 3.786 in un giorno. Allora, rispetto a ieri, che era stato il 2.600, è un numero che farà brividire. Allora, però io mi astengo perché è chiaro, e abbiamo capito tutti, che dipende dal numero dei tamponi che viene fatto. Però, al ragionamento logico che faccio io, questo significa che più facciamo tamponi, più vengono fuori casi. Quindi, francamente, non mi sento molto tranquillo. E io credo, tornando ai sindacati, che la preoccupazione sia questa, di non capire bene, non si capisce bene, quanti sono i contagiati in Italia. Perché poi ci sono appunto le variabili impazzite di quelli che sono asintomatici, eccetera, eccetera. I dati a me oggi preoccupano. Questo mi sento di dirlo anche appunto, nonostante i miei limiti statistici e matematici. Mi preoccupano, ci dicono però, Brusaferro, dell'Istituto Superiore di Sanità, dice, siamo in un trend discendente. Quindi, sicuramente loro hanno un modo di far calcolare questi dati in rapporto ai tamponi migliore del mio. L'unica cosa che dico è che trovo ancora una volta, come dire, inopportuna questa accelerazione del Veneto rispetto allo Stato italiano, del dire apriremo prima del 4 maggio, quindi qui abbiamo una regione che va veramente un po' per conto suo, però mi chiedo anche, il governo, se ha qualcosa da dire oppure no, dica qualcosa, allora, al Veneto e faccia presente quali possono essere le regole uguali per tutte. Oppure dica, il Veneto può riaprire prima, il Lazio può riaprire prima, la Campania può riaprire prima. Però lo Stato batta un colpo, perché altrimenti così il Veneto è legittimato a fare quello che può. Invece del, diciamo, chiamiamolo così, il progetto presentato dalla regione Lombardia delle 4D, che consiste in diagnosi, dispositivi, distanza, e mi sfugge l'ultima al momento, che cosa ne pensa, direttore? Sì, vabbè, ma di là di quante… È digitalizzazione, ecco, l'ho trovata. Digitalizzazione, digitalizzazione. Sì, che è un bel progetto… È fattibile, più che altro. Beh, fattibile, pure qui, insomma, vediamolo, perché insomma, sono quattro e non una, quindi bisogna realizzarle tutte e quattro. Distanza, insomma, quello che vogliamo. La digitalizzazione, ovviamente, è la cosa un po' più complessa. C'è questa applicazione che potrebbe essere usata, che è al telefono, che ti segnala quando stai per incontrare una persona che è positiva al coronavirus. Io veramente rimango un po' perplesso, ma non per l'applicazione in sé, però gli scenari orwelliani dipinti in 1984 si, come dire, si palesano davanti ai nostri occhi, perché ecco, voi immaginate anche che questa cosa qui, io non la contesto per quella che è l'emergenza attuale, no? È chiaro che in qualche modo dovremmo fare. Vogliono fare un'applicazione, la digitalizzazione dovrà consistere anche nella capacità individuale delle persone di individuare a loro volta una persona positiva al coronavirus, quindi di tenerla a distanza, non lo so, di non farla entrare in un negozio. Va bene. Io, la mia paura, forse sono eccessivo, ma la mia paura è del virus culturale che poi inneschiamo in una società. Io ho paura che poi un giorno ci saranno esclusioni sui costi di lavoro, esclusioni dalla società nei confronti di persone che risulteranno positive a un qualcosa. Ecco, io ho paura di uno scadimento culturale e sociale da questo punto di vista. Però ritengo che, ovviamente, qualche cosa bisogna più fare per uscire da questa emergenza in qualche modo. Ripeto, visto che i numeri sono quelli che sono e quindi dubito che a maggio avremo lo zero, il segno zero sul numero dei contagi. Bene, direttore, se lei non ha altro da aggiungere, io andrei avanti con le nostre notizie. Andiamo avanti con le notizie, grazie per l'attenzione e buona serata e buon proseguimento con la nostra TV. Grazie, direttore, buona serata a lei. Grazie. Grazie.